Roberto Piazza, tecnico dell'Allianz Milano, è finita una partita incredibile, 3-2, emozionantissimo fino all'ultimo punto, dicevamo prima con il tecnico Andrea Gianni di Modena. Tanti temi per Milano a partire dal fatto di avere finalmente un roster quasi a completa disposizione nonostante ancora qualche piccola defezione di natura fisica, non al 100%, partiamo da questo, non a caso forse oggi è arrivata anche la vittoria. Io vorrei partire anche da quello che hai detto tu all'inizio, una gara molto entusiasmante, provo solo a chiudere gli occhi e immaginare se ci fosse stato il pubblico, quanto si sarebbe divertito. Il primo pensiero che faccio è, visto come sta procedendo questa pandemia, speriamo di rivederci al più presto dentro ai palazzetti, che credo che ne abbiamo bisogno tutti, ma in salute. Poi, analizzando la gara, è una partita molto strana, il primo set sembrava quasi che noi non volessimo attaccare come sappiamo. Modena è stata bravissima, alla fine c'è stato un parziale che secondo me era troppo rigido, troppo duro rispetto al gioco espresso. Il secondo lo stavano vincendo molto bene. 5-13 E poi dopo, punto a punto, la squadra ci ha creduto, quindi è vero, il roster, quello che mi hai detto tu, la domanda era questa, riferita al roster, no? È ovvio che più siamo, più abbiamo soluzioni, più possiamo trovare soluzioni. Non siamo ancora al meglio e lo dobbiamo sapere. Però comunque la squadra piano piano ci ha creduto, ha recuperato quel secondo set che è stato secondo me la chiave della partita. E poi dopo siamo rimasti in partita, anche se nel quarto potevamo fare decisamente meglio. Hai detto tu, la chiave di volta è stata proprio quel secondo set, recuperare 8 punti non è facile per nessuna squadra, soprattutto in un momento in cui la squadra sembrava un po' persa. Hai rimiscolato un po' le carte, l'importanza di aver puntato poi su due giocatori che hanno fatto la differenza, come Luca Basic e Yuki Shikawa che sono entrati dentro con lo spinito giusto. Forse in alcuni momenti le partite o i set si vincono più che con la tecnica e con la testa, a volte anche con il cuore. È sembrato oggi che Milano abbia tirato fuori finalmente quel cuore, non che fosse mancato nelle gare precedenti, ma oggi ha fatto veramente la differenza. Allora, queste due squadre secondo me sono molto simili e anche loro giocano con un cuore straordinario. Quindi devo fare i complimenti a Andrea, ma glielo ho fatti pubblicamente, la squadra sta giocando molto bene Modena. La nostra non ha mai mollato, vero? È una vittoria della squadra e l'ho detto alla fine della partita, ragazzi, bravi, godetevela perché sono queste le cose che fanno crescere, che ci fanno gioire di tutte quelle ore in palestra che passiamo, di tutte quelle fatiche che dobbiamo sopportare, proprio perché sono mancati degli attori protagonisti che non potevamo mettere in campo. Adesso ce li abbiamo e la panchina però scalpita perché dice voglio giocare anch'io. Quindi questo è una bellissima, come ti posso dire, c'è il desiderio di dimostrare sul campo, ma per tutti, che giocando di squadra possiamo fare qualcosa di particolare. Lo spirito giusto dunque per godersi la vittoria, ma anche per poi proiettare la testa a un impegno che comunque era avvicinato, perché oggi giovedì, domenica, si torna qui all'Allianz Cloud contro Padova, una partita che non è una finale ma ha un'importanza di un certo spessore per Milano. Prima lo dicevano, ormai dire che ogni partita è una finale va di modo, ogni partita è una storia a sé. Io dico che ogni partita è come un libro di storie però, quindi è un capitolo a parte. Dobbiamo saperlo interpretare, sappiamo che Padova viene qua senza aver nulla da perdere, sappiamo che Padova ha una fase break micidiale, battono molto bene, dobbiamo essere bravi di testa nel recuperare le energie spese oggi e sono tante, fortunatamente le possiamo dividere.